ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi è uscita l'update 1.21 che introduce finalmente forse solo per me finalmente la photo mode la stavo aspettando da tantissimo e andiamo a vedere subito questo brevissimo video come funziona se non andiamo impostazioni c'è ecco qui la modalità foto cliccando la possiamo avere accesso diretto rapido al photo mode ok però voglio vedere un attimo come si attiva allora vediamo un po forse sui comandi vediamo bisogna cliccare sul pad sulla parte touch la parte sinistra ok andiamo sempre a vedere sul continua naturalmente perché non è che faccio una nuova partita per fare la modalità foto se non mi cancella tutti i dati quindi probabilmente quando lo rigiocherò farò una marea le foto ok io ero rimasto qui con le nostre spade del caos o lame del caos chiamatele come volete io clicco qui un po modalità foto perfetto con lo stick destro possiamo ruotare con lo stick sinistro ci spostiamo diamo kratos tutto il suo splendore la cosa figa era che si può fare allora l1 r2 che è proprio fondi da campo grana pellicola vignettatore e puoi anche eliminare i personaggi per il termo della foto dovrebbe funzionare come tutti gli altri giochi in cui è implementata come uncharted e adesso non ricordo neanche altri titoli vediamo un po dimettiamolo il viso di kratos possiamo anche fargli dire espressioni stupide allora col sorriso l'occhiolino oddio fighissimo 12 13 14 madonna 15 16 ma bello questo un cazzato nero ok 16 modalità divise il viso è predefinito ok possiamo allontanare tantissimo la telecamera tantissimo non neanche tantissimo possiamo allontanare la telecamera avvicinarla e ruotarla come vogliamo insomma poi andiamo un po un attimo ricominciamo dall'inizio qua l'angolo di campo eccola qua modalità primo god of war poi c'è la lunghezza focale una sorta di zoom rotazione visuale e questo l'abbiamo visto poi c'è profondità di campo kratos o personalizzata distanza di messa a fuoco insomma tutte le funzioni che ci sono nelle modalità foto se l'avete utilizzata in uncharted io l'ho utilizzata l'ho utilizzata parecchio apertura diaframma è una vera e propria macchina fotografica ok luminosità grana pellicola esposizione i filtri a treus perché bianche nero treus vabbè bianche nero toni freddi incrocio kratos seppia toni accesi toni caldi due arancio tutto molto semplice ma vabbè qui puoi mettere l'intensità del filtro tutto tutto molto semplice poi il momento che volete fare la foto basta premere x toglie tutto premi il tasto share e fa la foto praticamente e la mette nella nella playstation e qui poi potete pubblicarla fare delle modifiche sul computer portandola su una porta usb su una chiavetta usb per poterla portare sul computer quindi fare modifiche e personalizzarla in tutto e per tutto fantastico rimettiamo un attimo il filtro le vignettature possiamo farle vediamo un po con i bordi quindi impostarla come vogliamo anche in modalità cellulare e anche mettere delle personalizzazioni c'è il logo World of War carino niente di nuovo ma quello che aspettavo quello che aspettavo assolutamente i personaggi noi possiamo ecco appunto levare kratos e fare il la panoramica sul sullo scorcio bellissimo della panoramica veramente veramente figo questo è stato un piccolo video per mostrarvi la modalità foto adesso oggi non uscirà nessun video di God of War perché non ho purtroppo tempo è tardi e ho avuto da fare non ho potuto registrare quindi domani continuiamo la storia di God of War intanto a quest'ora per farvi vedere il nuovo update so che non c'è solo questa implementazione implementazione della foto qualcosa è stato cambiato non so in che impostazioni adesso vado a vedere sul log dell'update per vedere cosa c'è di nuovo e magari domani con il nuovo video magari vi illustrerò le modifiche che sono state fatte con l'1.21 credo niente di che però ho visto che ogni ogni giorno c'è stato un update stiamo all'1.21 quindi sono stati corretti parecchi errori che io non ho riscontrato assolutamente ok vediamo vediamo di fare una foto vedo di fare una foto la mettiamo come copertina del video e poi ci vediamo domani ragazzi ciao a tutti